È un'esperienza molto intensa che ti dà tanto dal punto di vista dei contenuti, ti dà tanto dal punto di vista del sapere, però richiede molto impegno ed edizione. In un lavoro di gruppo essere sia ingegnere che architetto dà un vantaggio poiché all'interno di un progetto è importante il lavoro di tutti e quindi avendo una preparazione che spazia su tutti i campi ti permette di collaborare con tutti e quindi avere un ruolo in prima linea all'interno del progetto. La materia che più mi ha colpito tra tutte le materie è stata il disegno dell'architettura perché penso che attraverso il disegno è possibile leggere e studiare molto un'architettura tanto da capirla e in questo modo è possibile avere un rapporto diretto con quello che si sta studiando. Per me studiare a Bologna è stata una bellissima esperienza sia dal punto di vista delle preparazioni, sia dal punto di vista dei corsi e soprattutto dal punto di vista umano per quanto riguarda la vita universitaria.